Come si può fare attenzione, diciamo, non superare il limite tra ironia e offesa, soprattutto su alcune categorie? Molto bello. Allora, possiamo dire questo, che se si è bravi nello scrivere non si hanno limiti, ok? Se invece si cerca di far ridere in modo gratuito, per esempio mettendo dentro dieci parolacce, si risulta generalmente antipatici. Quindi il limite è la propria bravura. Io rispondo sempre un po' così. Per esempio, Lenny Bruce. Lenny Bruce diceva che la comicità è tragedia più tempo, ok? Lui faceva spettacoli di stand-up comedy negli anni sessanta principalmente. Il giorno in cui muore Kennedy, il 22 novembre del sessantatré, tutti i comici annullano gli spettacoli. Considerate che la morte di Kennedy per gli americani è un po' come, che ne so, il ventennio fascista per noi, cioè è stata un'onta soltanto che è successo in un momento, no? Un presidente importante come lui che stava cambiando le cose agli occhi della popolazione quando c'era ancora la segregazione, eccetera. Quindi tutti gli spettacoli, che appartenevano un po' al mondo di sinistra americano, quindi al mondo progressista, fermano gli spettacoli, tranne lui. Lui va in scena, sale sul palco e la battuta che fa è, povero Mider. È un riferimento che noi non possiamo capire. Però chi era Mider? Era uno che aveva fatto i milioni incidendo i dischi con la voce di John Kennedy. Cioè lui cantava le canzoni famose con la voce di John Kennedy. Quindi lui racconta questa cosa nel suo libro, nella sua autobiografia, lui poi è morto malissimo, però racconta questa cosa per dire che è vero che la comicità è tragedia più tempo, ma se uno ha l'istinto verso la battuta giusta, cioè quella che offende soltanto chi ragiona con i propri pregiudizi, allora può fare qualsiasi battuta. Perché qui c'è da dire un'altra cosa, mi dilungo solo un momento, che quando voi scherzate su qualcosa, toccate nelle altre persone il pregiudizio. Cos'è il pregiudizio? Generalmente è un'idea che ci si fa degli altri, delle altre cose, del mondo che ci circonda, e che molte volte non corrisponde alla realtà, non è oggettiva. Tutti noi viviamo di pregiudizi, no? Che riguardano anche noi stessi. Quindi in realtà è possibile che voi scriviate qualcosa che offenda qualcuno. Più è forte questo qualcosa, più la possibilità di offendere qualcuno c'è. Faccio un altro esempio che riguarda me. Io a un certo punto, nel libro che ho pubblicato per Fazzi, prima di pubblicare per Fazzi scrivevo dei dialoghi su Facebook, che erano dialoghi tra Bergoglio e Gesù. L'intento era quello di mettere a confronto... Bergoglio parlava tantissimo nei primi mesi in cui era stato eletto Papa, della sua umiltà, dell'umiltà della Chiesa, eccetera. A me piaceva metterlo a confronto con la vera umiltà di Cristo, quindi con la povertà, la Chiesa povera, eccetera, eccetera. E la particolarità di Cristo è che parlava in romanesco. Ok? Mi serviva così perché mi serviva un Cristo autoritario, uno che gli parlasse in modo diretto, ritto, eccetera. Quali erano le critiche della popolazione, nemmeno cattolica, perché i cattolici in realtà erano contentissimi di leggere i dialoghi, però c'era qualcuno che si offendeva e dicevano «Ma Cristo non parla in romanesco? Non sei mai vista sta cosa?» E allora io lì, diciamo, non mi divertivo a dire «Ma Cristo non parla nemmeno americano, quindi è superstar, è un offesa». «O italiano parla». «Ma anche italiano, parla aramaico». Quindi l'unico che ne so che l'ha reso interessante è Mel Gibson con la passione. E quindi in realtà chi è offeso attraverso il pregiudizio tende a dire «questa cosa è offensiva perché Gesù non dice una parolaccia, non parla in romanesco, ma il punto è che quello, la verità è che nessuno può riprodurre la voce di Cristo, nell'italiano né in nessun altro modo, perché non c'è, non c'è più. Il limite è semplicemente la propria bravura, cioè il punto è che come quando scrivete non dovete provare a far ridere facendovi furbi, non basta una parolaccia, ok? Anche se certe volte servono. «Farmacia letteraria», un podcast della Scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461 «Radiogenius». Se ti piace, metti mi piace. Se ti piace, metti mi 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 piace». Grazie.